Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 16 febbraio, la segna stampa in breve di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo nuvoloso, assenza di precipitazioni, Massimo Moro in regia, col suo aiuto un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, fronte unico contro l'Austria, si parla del vertice Euregio ieri a Bolzano, con Pacere Rossi e Platter, i controlli siano a termine, salvaguardiamo Schengen. Museion di Bolzano, riacceso il wifi, internet senza fili, piano per gestire gli immigrati. E poi la tragedia sul lavoro in Val Venosta, un'altra tragedia, ucciso da un blocco di cemento nella cantina di un hotel. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, questa è l'apertura, ucciso dal blocco di cemento, il dramma nella cantina di un hotel Applaus, Appoi e poi scontro frontale alla prima assemblea subenco verso il referendum con accuse e minacce di querela. Il Corriere della Sera, per una notizia all'interno che interessa da vicino la provincia di Bolzano e cioè il personaggio Eva Clozze, il vitalizio d'oro, i dettagli raccontati a pagina 19, non è un regalo dell'Italia alla passionaria dell'Alto Adige, un assegno da 946 mila euro. Quei soldi, dice, con lei che nega l'adesione dell'Alto Adige all'Italia, quei soldi sono i contributi da me versati, ho solo seguito la legge. Sempre per la cronaca, la cronaca lingua tedesca, il quotidiano Dolomiten, ci si occupa di novità in tema di rinnovo della patente e in primo piano la foto per raccontare con uno scatto il vertice Euregio. ieri a Bolzano, chiudiamo con il quotidiano Tagest Zeitung, le tensioni nel mondo politico quando si parla di sostegno al mondo dell'edilizia. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.